Buongiorno, dove andiamo? Shopping! Andiamo a prendere tutte le cosine, per chi? Per la bimba! Per le bimbe! Sei pazza? Ti ha preso? Così? Sei pazza? Non credo che ormai ti possa nascostare! Ma non lo sa nessuno! Ma sto facendo un video, ma sei matta! Ah! Io amo questa ragazza! Io amo mia nuora! Sorpresa! Stupenda! È la mia terza figlia! Vabbè, andiamo! E' un gridice alla notizia, come sempre! Come sempre! Grazie! Per questo risotto con la zucca e i frutti di bosco, no! I frutti di mare! Vabbè, insomma, pazzesco! Insieme già di qua! Beh, ragazzi, che scoop c'è da stare collegati qui! Ciao!